Oggi è iniziato ufficialmente il nuovo anno scolastico in Sicilia. A Bagheria il sindaco Patrizio Cinqua ha inviato gli auguri a tutti gli studenti. Ogni inizio di anno scolastico un appuntamento importante, ha detto il primo cittadino. Il mio invito a tutti gli studenti bagheresi è quello di affrontare l'anno con entusiasmo e passione. La conoscenza è un'opportunità non solo di formazione culturale e di crescita e la scuola permette lo scambio di idee e confronto empatico tra coetanei. Vorrei dunque non solo augurarvi un proficuo anno scolastico ma ringraziare chi in questo percorso vi accompagna, i dirigenti e professori, uomini e donne che resteranno sempre anche nei vostri ricordi, ha aggiunto il sindaco che ha anche ringraziato tutti gli operatori scolastici che collaborano con il corpo docente. Agli auguri del sindaco si sono uniti quelli dell'assessore alla pubblica istruzione Romina Aiello, anche interventi di tipo straordinario, anche per noi la sicurezza degli studenti e il diritto alla scuola sono tratti fondamentali di una città moderna e civile. Le scuole partiranno con i servizi dedicati ai disabili già tutti attivi, ad assicurarlo l'assessore alle politiche sociali Maria Puleo che, come già annunciato, ha lavorato per garantire ai disabili la continuità dei servizi ma anche l'UVM distrettuale, l'unità di valutazione multidimensionale che rappresenta l'adempimento prioritario e ineludibile per la presa in carica del bisogno sociosanitario necessario per l'elaborazione del progetto assistenziale individualizzato e della erogazione dei servizi.